She can be a groupie boy, you can treat her like a toy, groupie come and groupie dumb, groupie fun has just begun, she can be a groupie... Spesso il valore di un territorio viene anche tramandato ai posteri dai fotografi. Novelli chansonniers del XXI secolo hanno il potere di fermare un attimo, spesso fuggente, di questa vita frenetica che merita di essere ricordata attraverso i frame di una fotografia e di un semplice scatto. Immagini belle e molto coinvolgenti come quelli realizzati da uno di questi maestri di asti, Costa Fletosu. Un mio zio mi ha regalato quando ero bambino una macchina fotografica piccina e poi da quel momento non sono più staccato dalla macchina fotografica. Non è facile oggi come oggi di fare fotografo di professione perché col digitale il nostro lavoro si è un po' svalorizzato, diciamo, però devi trovare sempre il nuovo e cosa manca alla gente. Mi piace tanto la cronaca, la cronaca sportiva, ma anche la cronaca nera che faccio per i giornali. Poi ho un studio fotografico dove abbiamo scoperto cosa manca agli italiani a quest'ora perché adesso tutti con il digitale non hanno più bisogno di stampare, di sviluppare i rulini, però hanno bisogno di restauro delle foto vecchie, degli astigiani degli anni 1920-1930. arrivano da noi, dallo studio e noi facciamo questi ritocchi delle foto molto vecchie ma molto belle, diventano ancora più bellissime. L'attimo è l'emozione. Io provo di trasformare, per esempio adesso che facciamo calcetto, l'atleta oppure la modella o il cantante, nel mio scatto deve essere un monumento, una cosa molto bella. Io sono orgoglioso, orgogliosissimo. Io ne ho quattro figli, di tutti e quattro orgogliosissimo. Una di loro fa la modella e anche una miss ha vinto un po' di titoli nazionali ma anche europei e la bella di Europa. Miss Muretto quest'anno è ancora in carica, ha vinto due anni fa la bella di Europa, ha vinto quattro anni fa la bella d'Italia e non so cosa potrà vincere ancora. Speriamo tutto cosa si può vincere. Io i miei figli li faccio poche foto. Lascio agli altri vederli perché ho paura che sarò soggettivo per cui faccio poche foto ai miei figli. Gli altri li vedono diversamente forse.